Non ti vedo molto entusiasta, eh? Che intenzione di fare questa volta, giusto per... no? Giusto per... Non ho voglia di andare. Non mi fa. Ma perché? Perché di no. Mi sta sulle palle. Mi sta sulle palle. Dobbiamo andare, prendere l'ordigno, piazzarlo, andarcene. Andarcene. Va bene. Andarcene. Va bene. Vista l'eleganza. Va bene. Vista? Vista? Il vestito. Vista? Vista? vuole adesso ti faccio vedere mister le gangsta sta sta quella non è casa di auge dici? a non ho la solita roba quindi pillolina no cartoni no mi hai portato la salvia no e te come stai guarda cos'è? mi ero po' forte cioè? mi hanno detto che è forte mi hanno detto cos'è che fa? ti dico che è buona ma te l'hai già provata? la provo per meglio sei contento cos'è? no però magari meglio è buona è buona Dopo, vieni con me. No, devo scappare. E quant'è che ti devo? Sono venti. Non so perché sei tu. Dieci? No, beh. Si provo. Non so perché sei tu. Non so perché sei tu. No, che sei tu. Non so perché sei tu. Non so perché sei tu. È stato... Lecce... L'amore... Grazie a tutti Ciao Dormivi? Eh sì, ancora Me le sono legate Ah vai via In vacanza Giovedì Giovedì l'ultima Giovedì l'ultima Vai via? Giovedì 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 Dov'è lasciata la mia bici? Dov'è lasciata la mia bici? Dov'è la mia bici? Dov'è lasciata la mia bici? Giovedì 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 far dimenticare questa storia ok? facciamo così, ti raccomando, tieniti vicini ragazzi e oggi tanti auguri grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, la Svizzera. L'hanno fatto nella Svizzera. Ma che inquadrature del cazzo. E' proprio vero che i coglioni girano sempre in coppia. Sì? Cos'è? Hai box? Hai box? Box, box. Chiamano i box. C'è da cambiare una gomma. Ehi, c'è da cambiare una gomma. Bravo, bravo, coglione. Coglione, campione, la parola, la letta, la parola. La letta. E tu ti spegni sempre, tu ti spegni ogni volta. Lo sai che mi farai venire il cancro così? E tu ti spegni ogni volta.